certe volte mi chiedo avanti è aperto c'è pure scritto cazzo buongiorno vorrei parlare con la psicologa io ho un sacco di problemi non c'è bisogno che lo specifica si vede benissimo comunque c'è un bel po da aspettare quanto tempo si renda conto lei stesso guardi quanta gente c'è che sta aspettando siete stupiezzo di fessa portalo c'è bel cuglione vabbè aspetto ugualmente è troppo importante ok come si chiama mi chiamo ciccio leon lei ha un nome di merda cosa grazie adesso se ne vada davanti agli occhi miei vada in mezzo a quella marmaglia e aspetti il suo turno lei è gentilissima avanti il prossimo subito dottoressa leon tocca a te portalo c'è bel cuglione buongiorno che problemi hai veloce che non ho tempo da perdere buongiorno dottoressa io sono disperato la gente non mi caga proprio non mi prende nemmeno in considerazione avanti il prossimo ciao ciao